Oggi al primo gradino della Vauda, stiamo praticamente salendo verso Corio, laggiù, sulla destra davanti a noi. Questa montagna qui di fronte è l'ambiantifero dove a Balangero si estraeva l'amianto. La compagnia di questa mattina, come vedete, è particolarmente affollata, quindi dobbiamo ancora agganciare un paio di nostri vipers a riferirci a Corio.